Treviso cambia volto e diventa di fatto città universitaria. L'accordo siglato questa mattina a Cafoscari con la rettrice Tiziana Lipiello porta a casa un investimento per la città della durata di 30 anni. Venezia mette sul piatto 20 milioni di euro. Treviso dà in concessione attraverso l'IPAB, Turazza, altri 4.000 metri quadrati di struttura già agibile. Siamo passati da 6.000 metri quadri oggetto oggi di riqualificazione a ulteriori 4.000 per superare il totale 10.000 metri quadrati destinati alle studentesse, agli studenti e ai servizi legati all'università. Quindi un passo importante. Ringrazio la magnifica rettrice Tiziana Lipiello perché ha condiviso fin dall'inizio l'obiettivo di una città e di una comunità di diventare città universitaria. Il campus universitario si amplia e si prepara ad ospitare fino a 6.000 studenti. Ora bisognerà lavorare ai servizi. È di questa mattina, poco dopo l'accordo, la chiamata del sindaco Mario Conte ai due presidenti di Camera di Commercio e Confindustria Veneto-Est. Mi sono sentito col presidente Pozza e con il presidente Leopoldo Destro per condividere la soddisfazione e per cominciare a progettare i prossimi 30 anni di uno sviluppo non di una città ma di un territorio che guarda l'università come un elemento fondamentale per la crescita. Servizi ma anche uno sviluppo urbanistico adeguato. Oltre all'Ateneo di Venezia c'è quello di Padova con il campus, la cittadella sanitaria e la caserma salsa. Oggi possiamo pianificare uno sviluppo della città attorno e con l'università importante.